Musica In pratica noi siamo in pallino al centro tra quelle tre cuspini questo pallino è il BEST, quindi che unisce i nostri tre stakeholders che sono studenti, partner e università In pratica noi cerchiamo di mettere in contatto gli studenti con aziende, associazioni, enti e ovviamente con il mondo universitario Quindi cosa fa BEST? Cerca di fornire un'educazione complementare che normalmente all'università non si riuscirebbe ad ottenere se non attraverso la vita associativa o attraverso cui vedremo cerchiamo di fornire un supporto alla carriera e di incrementare l'internazionalizzazione In pratica, che cosa facciamo? Organizziamo degli eventi, organizziamo dei posti didattici nell'area tecnologica organizziamo workshop e organizziamo competizioni ingegneristiche competizioni ingegneristiche di cui parlerà Valeria successivamente più nel dettaglio e parte di questi eventi che stiamo realizzando attualmente visto che la nostra collaborazione è di formata divertiva con AIDA e con Aeropolis Sono l'externa relation coordinator di BEST Napoli Ringraziamo Aeropolis e AIDA per averci dato la possibilità di essere qui presenti oggi grazie al fatto di aver avvicinato le nostre associazioni e le nostre realtà Riuscire a portare le aziende all'interno dell'università è un punto fondamentale ed è infatti uno dei punti focali di BEST cioè quello di dare un supporto agli studenti dal punto di vista della carriera BEST Napoli infatti crea servizi per gli studenti e con gli studenti non solo organizza corsi di lingua, mette a disposizione delle piattaforme ma inoltre riesce ad organizzare seminari come questo all'interno della facoltà del Federico II Il prototipo che quest'anno era la realizzazione dei modellini navali che dovessero essere più libri, occupare un volume molto limitato e anche molto leggeri e il secondo giorno avevamo dovuto aggiungere al modellino un motore a produzione e, scusate, un'altra collaborazione che abbiamo avuto per il Chessati è stata la Daniele con la Lucci ci hanno proposto un'ora come topic per la risoluzione dell'algoritmo di ottimizzazione dei costi e con grande orgoglio abbiamo quei vincitori che sono sia per il Chessati che per il Chessati il tipo napoletano e vorremmo mostrarvi un breve video della realizzazione di questi 4 giorni crediamo che un'università che possa formare l'individuo a 360 gradi quindi non solo uno studente ma una persona che sia pronta ad affrontare il mondo del lavoro così come il mondo di tutti i giorni lo facciamo perché crediamo che è sharing is sharing ed è una cosa non così scontata in ambito didattico e non solo mentre Aeropolis, come potete vedere, lo sa molto bene infatti questo è un momento di condivisione molto importante e lo facciamo perché crediamo nell'opportunità anzi, nella potenza di creare delle opportunità opportunità di crescita per tutti voi quindi cos'è BEST? BEST è un'organizzazione non profit di volontari così come in Aeropolis e europea è dal 1989 che cerca di creare un network di giovani e molto dinamico e innovativo grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione